Nulla da fare sino a questo momento per Don Antonio e Ruggeri, cosa non andare a sfrittare per l'algetto? Perché è solitario sulla parte destra della sede stradale, ora si porta al centro. Emma Redagli si alza sui pedali e questo quinto trofeo, gruppo agroalimentare di A, è tutto, sono Torrelli. Ladies and gentlemen, l'applauso, Emma Redagli! Emma Redagli, nessuno più forte di te oggi, bravissima a cogliere l'attimo giusto, te ne sei andata alla fine del penultimo giro, quindi all'inizio dell'ultimo e per le altre, non c'è stato più niente da fare, bellissima corsa. Grazie, è stata una gara dura, siamo partite subito al primo giro, eravamo io e Greta, poi sei unità anche Giulia e siamo andate per tutta la gara, però poi ho deciso di anticipare e ce l'ho fatta. Hai deciso di anticipare e hai fatto bene dedicando a chi la vittoria di oggi? Alla mia squadra soprattutto perché mi hanno aiutata, senza di loro probabilmente non ce l'avrei fatta, ai miei allenatori, al presidente e alla mia famiglia. Greta Bonazzoli, allora complimenti, intanto un secondo posto che comunque ti fa onore. Avete collaborato molto bene nella fuga di oggi, arrivando al traguardo, ma poi la Redagli ha rotto gli indugi prima della volata a tre. Sì, abbiamo collaborato e è stata una gara dura da subito perché siamo partite molto presto e sinceramente non pensavo che saremmo riuscite ad arrivare in fuga. Allora Greta, soddisfatta a metà o soddisfatta completamente? Sì, sono abbastanza soddisfatta e certo ero più felice se arrivava la vittoria, però sono contenta perché Emma ne aveva di più, si vedeva. Giulia Ruggeri, terzo posto, un bronzo che comunque ti rende merito perché anche tu hai collaborato molto bene nella fuga che ha caratterizzato tutta la corsa. Sì, comunque ci davamo cambi regolari e sono contentissima del risultato che ho fatto ed è per ora il mio risultato migliore in questa stagione. Grazie a tutti. www.pianetaciclismo.it Il ciclismo, come non l'avete mai visto.